La parola adesso a Mariano Carraro che è il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia che il Collegio ha dato unità questa serata. Grazie, grazie a tutti voi che avete voluto essere tutti presenti per commemorare da un punto di vista tecnico ma anche sociale della figura di Eugenio Gnozzi, questo nostro collega d'ingegnere che ha cambiato il voluto di Venezia negli anni 30, ma sulla sua figura dal punto di vista tecnico e sociale non dico altro perché avremo potuto apprendere quanto ha fatto nel corso delle relazioni che seguiranno. A me aspetta ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'incontro di oggi e comincio da Tiziano Piasioli e sua moglie di Randa con i quali abbiamo a suo tempo alcuni mesi fa avviato la redazione del filmato che oggi vedrete presentato e che ripercorre le tappe di progettazione e costruzione di diverse opere delle diverse opere che Eugenio Gnozzi ha realizzato nelle città di Venezia. Ringrazio ovviamente alla famiglia Croft che è presente qui oggi e che sono in tutti se non se non avverranno di Eugenio Gnozzi e del piccolo collega. Ringrazio tutti i relatori per il grosso lavoro che è stato fatto, ne avrete poi conto durante l'incontro di oggi per la preparazione delle relazioni che sono state sicuramente impegnative ma anche molto stimolanti sia in quello che vedete ma sia anche nel lavoro di preparazione di questo convegno. Devo dire che appunto ha interessato tutti noi, tutti coloro che hanno collaborato per il convegno per richiamare l'importanza, i dettagli, la capacità produttiva di questa persona, di questo nostro collega al quale evidentemente facciamo riferimento, è un esempio per noi e per il nostro lavoro. Nell'ambito delle iniziative che l'Ordine e anche il Collegio degli Ingegneri ha in programma, come sentitevi questo piccolo spot pubblicitario, ha in programma per le prossime settimane, segnalo che il 19 di dicembre prossimo, nel pomeriggio a partire dalle 16, faremo l'assemblea annuale degli iscritti alla Venice Venice Tower, VHT a Porto Marghera, che è questa torre di raffreddamento che è stata ristrutturata e adibita a centro congressi e che in qualche modo costituisce anche un esempio di un inizio di rinunfero di Porto Marghera, quale dovrebbe essere. Ci vorrebbe probabilmente un'altra figura come quella di Eugenio Gnozzi per affrontare da par suo un tema del rinunfero dell'intero territorio veneziano in Porto Marghera, perché la sfida effettivamente è molto molto grande. Per cui ripeto, giovedì 19 dicembre, pomeriggio a Porto Marghera. Vi ringrazio ancora per l'attenzione che vorrete prestare all'incontro di oggi e per la vostra presenza. Grazie.